Da due anni i residenti di Avigno e di Velate chiedono che il tracciato venga rimesso in ordine, ma ad oggi poco o nulla è stato fatto. Ad esempio, la sbarra di legno che si trova all'imbocco è ancora rotta. Le proteste arrivano dal percorso vita intitolato a Fiorella Noseda, insegnante e campionessa italiana di Schiark, residente proprio a Velate, scomparsa nel 1998 in seguito a un incidente stradale. Inaugurato nel 2001, il percorso è molto utilizzato dagli abitanti della zona per passeggiate nel verde costeggiando il vellone, ma la situazione non è proprio idilliaca. Vegetazione cresciuta a dismisura arrivando a coprire le panchine, cartelli ormai rotti o sbiaditi, attrezzi per esercizi fisici rovinati o instabili. Per questo gli abitanti della zona chiedono ancora una volta che il sentiero venga rimesso in ordine.